Ciao a tutti da LibriTechnoFun.it Oggi grazie al negozio online MobileFun.it vi suggerisco un'idea per cambiare aspetto al vostro Samsung Galaxy S5 come facciamo? semplicemente acquistando una back cover posteriore di un colore diverso genialata il prezzo di questa cover è di 31,99€ e nella confezione che è mi raccomando dovete acquistare l'originale Samsung perché l'originale Samsung ha la protezione e la certificazione IP57 ovvero vedete questo gommino serve a non fare entrare l'acqua dentro il dispositivo perché il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere quindi se comprate una cover di quelle tarocche occhio perché dopo poi vi va l'acqua dentro e il Galaxy S5 va a farsi friggere quindi solo accessori originali almeno questo è il mio consiglio poi fate come volete come funziona? il funzionamento diciamo non è proprio un funzionamento però è davvero molto semplice perché come vedete io ho il Galaxy S5 di colore bianco e voglio cambiare la cover posteriore faccio così la levo e metto quell'altra voilà in un attimo cambia aspetto il mio Galaxy S5 e a dirvi la verità devo dire che non è affatto male anche perché il grip della cover posteriore diciamo di questo colore blu è decisamente diverso dalla cover posteriore bianca diciamo è molto più ruvido anche al tatto il Galaxy S5 originale ha la parte blu ha la parte frontale nera però chi se ne frega io ho i colori nero azzurro mi vanno un po' di traverso e quindi preferisco questo tipo di colorazione quindi avete visto questo chiaramente video era un video così tanto per farvi vedere come è davvero semplice sostituire la cover e magari anche per darvi un'idea magari a chi non è ancora venuto a mente di fare questo il tutto è disponibile su mobilefan.it accessorio come ho detto originale Samsung al prezzo di 32 euro potrete cambiare aspetto al vostro Samsung Galaxy S5 magari avete i pantaloni blu vi mettete la cover blu ciao da Diego